Ciao amici, bentrovati in questo nuovo video. Siamo su Pausa Caffè Live in compagnia di Max, mi raccomando intanto pollice in su, parliamo di Grande Fratello VIP 7 edizione, numero 7. Sì, perché ci sono delle novità che in realtà stavamo già aspettando questo momento, dove ci sono degli ingressi, nuovi ingressi, esattamente 6, lo dicevamo già da tempo, e posso ufficializzare questa cosa, perché sono confermati. E per il pubblico italiano, appassionato del reality show per tutti i telespettatori, tutti coloro che lo guardano anche a pagamento o non a pagamento, non esiste notizia migliore. Nuovi VIP sono pronti a varcare la soglia della gettonata Porta Rossa con un carico di novità e colpi di scena. Sì, perché sì, ci sono 6 ingressi, questo è poco ma sicuro, ma il VIP già definito, ce n'è uno in particolare che è definito il bello della casa. Ma già ce ne sono belli all'interno della casa, quindi perché definire questo il bello della casa? Come se lui entrasse nel programma e si rubasse lo scettro, no? E quindi lui diventerebbe il vero bello della casa. Quindi, che significa che è più bello degli altri? Capiamolo. Luciano Punzo vi ricorda qualcosa? Un appuntamento imperdibile è quello di giovedì sera, quando nella casa del grande fratello VIP, 6 nuovi VIP parchheranno la soglia per dare inizio alla loro esperienza. E giovedì è tra pochissimo, signori, quindi preparatevi. Cioè, nel senso che è proprio oggi. Vabbè, equilibri sono questi che potranno essere stravolti, soprattutto se a entrare sarebbe questo VIP bello. E dopo le indiscrezioni delle scorse settimane che ce ne sono state a bizzeffe, sono confermati i nomi di Edoardo Tavassi, Sara Altobello, Micolin Corvaia, Oriana Marzoli e Raffaello Mazzoni, ma anche l'ex tentatore di Temptation Island, che stiamo un po' come se fosse quasi pubblicizzando, Luciano Punzo. Sì, lui, dopo l'addio a Manuela Carriero. Sì, perché deve stare solo, perché in caso dovrebbe punzecchiare qualcuno all'interno del programma. Un vero e proprio colpo di scena per il pubblico italiano, che è stato informato per tempo dalla novità da Silvia Provedi a Casa People, dicendo «Sono contenta dell'ingresso di Edoardo Tavassi, perché vi dico che a me mi sta proprio simpatico». Lo so, lo so, è un bellone che probabilmente riuscirà nel suo intento dopo che avrà avbarcato la sogliola rossa, la sogliola. Hai capito che roba? Perché lui andrà a pesca lì dentro, signori. E sul sito si legge «Lui era corteggiatore, o meglio, era un tentatore». Si è riuscito, sì, è riuscito nell'intento di rompere la coppia. Adesso entrerà da single, perché è finita anche la sua storia con la ragazza di Temptation Island, e si farà spazio tra i belli del grande fratello Vip. Addirittura, invece, come dicevamo a inizio video, sembrerebbe che lui rubi proprio lo scettro per diventare il migliore, il top, il più bello. Ma sarà così. E quindi, Luciano Punzo lo troviamo così al centro totale del gossip, già a partire in realtà da un annetto fa, quando sarebbe stato l'amico Davide Basolo a intervenire a proposito delle voci messe in circolo sul conto dell'ex tentatore. Quali erano le parole? queste. Posso assicurarvi che Luciano Punzo non è assolutamente gaio. Ho letto degli articoli, ma sono proprio falsi. Non c'è nulla di vero in queste cose che avete letto. Adesso lui ha una bella relazione seria nata dopo Temptation Island. Il resto sono tutte baggianate per poter lucrare, sparlare, quindi vi invito a non ascoltare che sparge queste voci infondate. E no, raga. No, assolutamente no. Questo è tutto per quanto riguarda questa news. Io vi ringrazio tanto per l'ascolto di questo video. Se siete giunti fin qui, lasciate un bel bollino, ovvero un bel like. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale se parliamo di pagina Facebook. Seguite la pagina. Vi aspetto per un prossimo video per informarvi su qualsiasi cosa.